Ciao a tutti ragazzi, io sono LorexD e oggi giocheremo Flash of Plans moddato Eccoci qua, tutto moddato, io vi consiglio se ve lo scaricate Dimmi a fare, hashtag, no c'è hashtag, questo E-A-Z-E-Z Aspettate, fatto Ecco qua il vostro villaggio Allora, faremo un sacco di attacchi, io sono in questo clan Coglione, ma perché si chiama così? E vabbè, guardate, vi fa il villaggio troppo figo E abbiamo tutto questo Allora Mettiamo un sacco di giganti Dai, 21 E tanti, tanti di questi Un pack al massimo E niente Ah, ah, anche questo si può mettere Va bene Facciamo così E poi prepara Tac, tac, tac Tac, tac, tac E basta E poi una cosa così Però Questo, questo Q Non c'è Ma vabbè E allora Niente Andiamo ad attaccare Guardate il mio Guarda, così Andiamo ad attaccare Mi chiamo questo dai Più difficili Eh, vabbè Difficili Questo va benissimo Allora Mettiamo Triscia Triscia, striscia, striscia, striscia Ok Mettiamo Una mongolfiera Un drago E Ok Poi tac, 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 tac Mettiamo Le cose Mettiamo Le varie Furie Tac, tac Ok Adesso dobbiamo solo aspettare Quindi due stelle Le abbiamo già fatte Cerco di mettervi In descrizione Il Il Come si chiama Non mi ricordo Il link Il link di questo Mod È troppo Bella Vabbè Anche se ci sono queste scritte qua Vinto Adesso avete tutto Il limitato È Con Vediamo un po' Con Tessar Bomba Aspetta Lo facciamo Possiamo di iniziare Tessar A A B A A Vai Beh Penso che sul Clash of Plans Normale Questo è Ma che cosa Fai Ok Guardate Che bello Fai Guarda Guarda La mia Il mio Municipio Preferito È Questo Dieci L'undici L'undici Un po' Di meno Vabbè Rifacciamolo Perché comunque è brutto E Asli Così Beh Ok Fatto 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 Dai così è più bello Comunque Ah Questo Ok Ricarica Invece Ci possiamo Sfidare Da soli Allora Rifacciamo Il deck Prima Cioè Le truppe Di prima Però Su queste Mod Non durano A lungo Durano Poco Tipo Io mi sono Scaricata Prima Molto Prima Tipo Da Tre Giorni Avevo Scaricato Una Mod E Dopo Una Settimana Non è Funzionato Non Non ha dato Più segni Di vita Quindi Non è Molto Conveniente Farlo Allora Vediamo Un po' Suicidal Mi sembra Su I Cida Suicidal Uai Sì Ecco Questo Vedi L'orex Di Il nostro Villaggio Attacchiamo Ok Ok Tacco Un po' Mi sa bene Adesso dobbiamo aspettare solo un po' Che poi ti dà Le risorse Anche se del tuo Villaggio Non so perché Ok adesso che Perché Prima di fare questo video Ci stavo giocando un po' E poi mi sono Ho venuto in mente Dai facciamo un video per youtube E allora Eccoci qui Dunque è bellissimo Ma comunque Se lo scaricate Se riesco a vendarlo Sulla descrizione Ci sarà Quando lo scaricare Prima Vi dirà Questo Questa applicazione Può danneggiare Il tuo cellulare Voi andate su Impostazioni Su Su una cosa Che vi dice L'impostazione Voi ci cliccate E ve lo fa scaricare Però Non Non provoca virus Non Proprio non fa niente E poi anche se Provoca virus Basta Disinstallarlo E poi Vi farà Installare Boh a me è fatto così Un'app Dove dopo Un po' Non ci sarà più Nessun virus Anche se da me Non mi è Non è capitato Nessun virus Però va Allora Nel clan ci sono Ancora Ok Vediamo Questo è il profilo Molti non sanno Che cosa Vuol dire Easy C'è per farlo Perché vedete Ciao Vabbè 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 Questo video Io direi che può finire qua Vi manderò Cerco Come ho detto Di mandarvelo In descrizione Il link E ditemi Quale delle torri infernali È più bella Il 4 o il 5 Chi lo sa Guardate questa Che bella Al 6 Vabbè Comunque Questo video Finisce qua E ho potenzo A questo Solo una C'è Artiglieri Una Do Comunque Questi sono dei trucchi Guardate Aspetta Quello Aspetta Il video Ve lo faccio vedere Subito Ecco qua Adesso Riscriviamo Suicida Suicida Qua Ok Comunque Ok Su I Ci Dal Vai Ok Guardate Che bella Bellezza Guardate Qua non dura Mezzo secondo Beh No Non ci riusciamo Vabbè Come ho detto Questo video Finisce qua Arriviamo Come dire 6 iscritti Cioè 6 iscritti Non 16 Arriviamo A 6 like E niente Giocateci anche voi Va bene All'inizio Si è certo Vabbè E Niente Ciao